Perché si sa, Volter, le parole hanno due significati. Vuoi dar conto di fronte? Oh sì, mi fa pensare. Mi fa pensare. Cinto vuoi dar contare? Vuoi dar conto la faccia? Parla piano quando lei è qui. Laura, non giù di me, non c'è la casa. Se non c'è più della tua sede, vorrei venire un po' percorso. Sono solo pulizieri primavera, per la regina di oggi. Sì, ci sono due sentieri che puoi percorrere. Nella lunga corsa c'è sempre tempo per cambiare la strada che percorri. E' sì, mi fa pensare. Mi fa pensare. E la tua testa sta ronzando e non smette a furia. E in caso tu non lo sapessi, il flauto ti sta chiamando per raggiungerlo. Lo sapete che la tua scala si appoggia al vento che sussurra. E mentre serpeggiamo lungo la strada, le nostre ombre sono più alte delle nostre armi. La cammina una signora che tutti conosciamo, che risplende di luce bianca e vuole mostrare come tutto ancora diventi oro. Quando tutti sono uno. E uno è tutto. Essere una roccia e non rotolare. Non rotolare. Soglie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti